Ripristinare la normalità nella città ucraina di Kherson è una missione molto difficile. Nella loro ritirata i russi hanno lasciato una città senza elettricità, acqua e riscaldamento. Sopravvivere significa fare lunghe file per ricevere aiuti o riempire bidoni d'acqua, un compito gravoso per gli anziani. Non è troppo pesante per lei? Sono tanti chili. È piuttosto pesante, ma cos'altro posso fare? La vita è difficile anche per chi ha ancora dei risparmi. Tutto è scarso anche nei negozi. Prevediamo consegne da altre parti dell'Ucraina, il latte sta arrivando, i prezzi sono alle stelle, ecco perché le persone cercano di risparmiare, vengono qui quando ci sono i saldi. In questo contesto la Presidente della Commissione europea ha annunciato la consegna all'Ucraina di un'assistenza finanziaria di 2 miliardi e mezzo di euro. Entro il 2023 saranno 18 miliardi e la guerra continua, come ricordano i rapporti quotidiani del Ministero della Difesa russo. Martedì Mosca ha accusato l'Ucraina di aver bombardato l'impianto di Saporigia e minacciato di provocare un disastro nucleare. La stazione è a rischio di un incidente, apparentemente Kiev considera accettabile un piccolo incidente nucleare, ma la radioattività non conosce confini, non è piccola o grande. Questo sarà un precedente che cambierà per sempre il corso della storia in Europa. L'Ucraina ha lanciato le stesse accuse contro la Russia e ha chiesto la smilitarizzazione del complesso che da marzo è controllato dalle truppe di Mosca.